Ad Ascireale invece domenica pomeriggio in piazza Duomo il Movimento Siciliani Liberi sarà presente con uno stand per illustrare ai cittadini il progetto ZES, zona economica sociale, un progetto che punta al rilancio economico per l'isola. Sentiamo come nel servizio. Potrebbe rappresentare un rilancio per la Sicilia dal punto di vista economico e politico, ovvero la ZES, zona economica speciale o free zone, che in Europa già vede 70 casi. A lanciare il progetto mesi fa il Movimento Siciliani Liberi, un movimento indipendente nato nel gennaio 2016 guidato dal professore Massimo Costa, docente di economia all'Università di Palermo, costituito da professionisti, operai, agricoltori, ma soprattutto donne che credono in un futuro migliore per i propri figli qui in Sicilia. Il progetto zona economica speciale è stata già istituita in Europa secondo i parametri dell'Unione Europea, in paesi come Irlanda, Malta e nelle isole Canarie, Baleari, Azzorre. Il Movimento Siciliani Liberi vuole far conoscere il progetto con una serie di incontri, di cui il prossimo sarà domenica 25 a partire dalle 17.30 in piazza Duomo, dove si potrà firmare una petizione, come spiegato dal portavoce distrettuale di Catania, Massimiliano Vertillo. Il progetto zona economica speciale è la proposta del Movimento Politico Siciliani Liberi. Siciliani Liberi è un movimento nato all'inizio del 2016. La ZES è il nostro progetto di sviluppo economico per dare uno shock fiscale alla nostra isola. Fa riferimento alle direttive europee, quindi è un progetto molto concreto. Tra l'altro dobbiamo dire che in Europa sono già presenti 70 ZES, tra cui tutte le isole. Quindi noi facciamo riferimento alla condizione di insularità della Sicilia ed è anche un'area svantaggiata. Quindi abbiamo due motivi ben precisi per poter chiedere la zona economica speciale. Quali benefici? I benefici sono innanzitutto una fiscalità di vantaggio, che possiamo tradurre anche in numeri. Per le persone fisiche il vantaggio fiscale sarebbe una liquida massima del 20%, mentre per le aziende il 15% e anche la possibilità di ridurre la tassazione attraverso le liquide IVA, quindi ridurla al 10%. Domenica pomeriggio dalle 17.30 alle 21 saremo presenti in Piazza Duomo perché è a fianco al disegno di legge che presenteremo all'Ars quando, insomma, in occasione delle regionali ci presenteremo. Stiamo affiancando una petizione popolare, quindi invitiamo tutti i cittadini di Cireale a venire a trovare, a tovarci al gazebo, che è un'occasione innanzitutto per conoscere il movimento, poter approfondire gli aspetti della zona economica speciale e poter eventualmente apporre direttamente la firma con un documento di riconoscimento.